Non si possono pagare le pene di tutta questa gente, non possiamo andare in televisioni che mia moglie, incensurati, ad andarci a difendere. Io me ne vado, grazie a tutti. Ma in che senso se ne va? Ma qual è la discussione? Massimo è vergognoso. Ma perché? Scusami, ma tu mi devi spiegare. Associare la camorra alla mia vita. Io non voglio amare le colpe di nessuno. Associare la camorra alla mia vita perché Piscinini deve fare audience. Io non ci sto. Si faccia le sue cose, Piscinini. Perché scusa? Io me ne vado, grazie. No, l'accordo è di parlare. Allora non è che dici vengo e parlo. Massimo, parliamo onestamente, Massimo. Allora parliamo però. Tu sei un uomo intelligente, parliamo onestamente. Dovete rispondere a delle domande. Questo quadro, cosa c'entra con me e mia moglie? Me lo spieghi? C'entra, c'entra. Lei non sa tanto qua dentro. C'entra perché lei dice, io non ne sapevo un uomo.